Non se l'aspettava neanche Varnado che non riesce a capitalizzare poi Gorì per la tripla del meno due. Questo era l'obiettivo di Giorgi, di aprire l'area anche con i lunghi e tirare da tre anche con i lunghi, soprattutto se Varnado va rientrando. Con due su dieci dall'arco nella seconda parte della partita invece ha totalizzato sette su dodici e infatti ora lo score dice nove su ventidue da tre per la formazione allenata da Giorgiovic che ora ha la possibilità di agganciare la Virtus Roma quota settantanove con una tripla anche portarsi davanti. Il blocco di Gorì ha la possibilità di sparare la tripla. Eccola la chiave di questo ultimo minuto. Partita intensissima, ora c'è Maestranzi su Bulleri e Gorì che ha preso la mano dall'arco, tre triple consecutive da parte dell'americano e ora Roma...